Wow! Abbiamo finalmente raggiunto i 100.000 iscritti! Vorremmo ringraziare voi, gli iscritti, per averci aiutato a raggiungere questa vetta. Non vi ringrazieremo mai abbastanza. Non ci aspettavamo nemmeno di raggiungere 100 iscritti all'inizio. E ora invece siamo arrivati a 100.000? Quindi a chiunque si sia iscritto, grazie. Per alcuni di voi, questo è stato un lungo viaggio, pieno di ostacoli. E per altri, il viaggio è appena iniziato. 100.000 è davvero un grande numero. Per capirne le dimensioni ho preso 100.000 gatti. Eh? Dopo più di tre anni e mezzo di lavoro, problemi e fatica, abbiamo raggiunto questo traguardo e lo dobbiamo a voi. Ma lo dobbiamo anche a tutti i fantastici autori di cui doppiamo ogni settimana i video. Quindi vi invitiamo, se non l'avete già fatto, a iscrivervi a tutti i loro canali per dare il vostro sostegno a creatori di contenuti davvero validi su YouTube. Igoraptor, Harry Partridge, Red Minus, Zonsama, How It Should Have Ended, StamperTV, i5 Toons, Race Pirate, ViviUnoGaming, Domics, Jan Animation Studios, Rachel Dust Staff, Sky Wailer e ultimi, ma non meno importanti, Juntory. Grazie a tutti i nostri amici.